Possiamo correggere i compiti consegnati dagli alunni su Google Classroom inserendo dei commenti vocali e scrivendo manualmente sul compito. Adesso andiamo su lavori del corso, clicchiamo sul compito consegnato, clicchiamo qui all'interno per aprire i documenti consegnati dall'alunno. Sulla destra possiamo vedere che l'alunno ci ha consegnato il compito in formato PDF, in formato immagine, in formato doc di Google e poi un'immagine inserita all'interno del documento doc di Google. Iniziamo a correggere il formato PDF. Apriamo il documento cliccando su questa freccia in alto a destra. Qui in alto possiamo cliccare su Apri con e possiamo correggere il compito utilizzando l'estensione Cami oppure l'estensione Dock Hub oppure se utilizzate G Suite potete correggere anche con Read & Write. Oppure un altro percorso più semplice è quello di andare qui a destra e cliccare su Grade with Cami. Cliccando qui l'estensione Cami si andrà ad inserire all'interno di Classroom, quindi non sarà necessario sceglierla ogni volta che dobbiamo correggere un compito, ma la ritroveremo sempre all'interno di Classroom. A sinistra abbiamo tutti i vari comandi di Cami, alcuni sono gratuiti, altri invece sono pagamento. Adesso vi mostrerò i comandi gratuiti. Qui abbiamo un evidenziatore disponibile in vari colori, scegliamo il giallo, poi stabiliamo la parte da evidenziare. Se vogliamo scegliere gli altri colori, ecco, evidenzieremo la parte. Con questo invece individueremo una zona più ampia da evidenziare. Il commento invece è possibile inserirlo nei vari colori, quindi se devo inserire un commento qui, a destra come vedete comparirà il riquadro nel quale potevo inserire il commento. Ok, quindi poi questo lo inserirò accanto alla parte da commentare. Se clicco sulla T invece posso inserire del testo. Ecco, quindi inserirò il testo. Se vado sulla freccia in alto, clicco su questo comando, poi clicco sulla parola e la sposto dove si deve evidenziare l'errore. Poi ancora qui invece possiamo disegnare, diciamo possiamo scrivere ed annotare, oppure cerchiare qualcosa magari di sbagliato, possiamo sottolineare, possiamo quindi utilizzare i vari colori. Se vogliamo cancellare clicchiamo e cancelliamo. Quindi con Kami posso evidenziare con i vari colori, posso segnare con la matita di vari colori, posso inserire il testo e i vari commenti. Adesso vediamo invece di correggere un altro formato, il formato immagine. Mi chiede di convertire il documento che mi ha consegnato l'alunno in formato estensione Kami. Ecco, questa è la foto del libro che mi ha mandato il mio alunno, quindi posso sempre utilizzare l'evidenziatore, posso inserire dei commenti. Ecco, scegliamo un colore. Posso anche inserire delle forme geometriche e vari colori. Posso inserire anche il quadrato. Ecco, quindi potete correggere in tutti i modi. Affinché il nostro alunno veda queste correzioni è necessario che utilizzi però il computer e che abbia aggiunto l'estensione Kami. Vediamo invece il caso in cui l'alunno abbia consegnato un compito in formato doc di Google. In questo caso le correzioni vengono fatte come già sappiamo, quindi selezionando la parte sbagliata o la parte nella quale voglio inserire qualcosa, qualche commento. Quindi sulla destra si apre il riquadro nel quale inserirò il commento. In questo caso posso inserire il commento sia scrivendo e sia, se guardate questo icona M, questa è l'estensione Mote. Se clicco su di essa, si apre il microfono e posso registrare. Hai fatto un bel lavoro. Clicco su Done, poi clicco su Rispondi e così viene inserito il mio commento vocale. Ascoltiamolo. Hai fatto un bel lavoro. Ecco, posso inserire tutti i commenti vocali che voglio. È corretto? Il nostro alunno potrà vedere le correzioni e potrà ascoltare i commenti vocali sia se utilizza un computer e sia se utilizza i dispositivi mobili. Nel caso in cui lui non abbia aggiunto l'estensione, come nel caso di un dispositivo mobile, riceverà un link. Cliccando sul link sarà trasferito nel sito di Mote e potrà ascoltare il commento. Adesso andiamo a correggere il compito consegnato come immagini all'interno del documento doc di Google. Eccolo. Clicchiamo. Il nostro alunno ci ha consegnato l'esercizio svolto su un foglio, quindi l'immagine del foglio e l'immagine della pagina del libro. Adesso andiamo a destra, clicchiamo su questa freccetta, visualizziamo sempre i due esercizi, clicchiamo sull'immagine e con il destro del mouse si aprirà questo menu a tendina. Clicchiamo su Salva in Keep. Andiamo a destra, clicchiamo in alto su questi tre puntini e clicchiamo su Apri in Keep. Si aprirà Google Keep e potremo correggere manualmente il nostro esercizio. Clicchiamo su di esso, in alto a destra clicchiamo su questa matita e poi in alto a sinistra abbiamo tre tipologie di matite tra penna, pennarello ed evidenziatore con i vari colori e le varie, diciamo, i vari tratti. Scegliamo ad esempio il rosso, quindi clicchiamo, scegliamo l'evidenziatore, evidenziamo una parte, scegliamo quest'altro, magari in un altro colore. Ecco, quindi possiamo fare tutte le correzioni. Poi, torniamo qui in alto sul nostro documento e qui a destra avremo il documento corretto. Poi andiamo in basso, posizioniamoci sotto l'immagine e andiamo a destra a cliccare sui tre puntini e poi clicchiamo su aggiungi al documento. Quindi l'alunno avrà il documento consegnato da lui e poi il documento corretto. La stessa cosa la potremo fare con l'altra immagine e sempre utilizzando lo stesso procedimento. Torniamo all'interno di Classroom. Quindi abbiamo il documento PDF corretto con Kami, l'immagine, anche essa corretta con Kami, poi il documento in formato doc di Google corretto con il commento vocale e poi appunto l'immagine corretta con Kip. Adesso vi mostrerò come aggiungere le estensioni che abbiamo utilizzato nel vostro computer. Andiamo ad aprire un altro pannello e scrivete Chrome Web Store. Qui in alto a sinistra scrivete Kami. Questa è l'estensione che abbiamo utilizzato per correggere il documento PDF e per correggere l'immagine. Quindi andate qui a destra e voi vi ritroverete Aggiungi. Quindi cliccherete su Aggiungi e darete il consenso ad aggiungere il vostro computer. In alto a destra lo ritroverete qui. Ecco questa è l'estensione Kami. L'estensione invece che vi permette di aggiungere commenti vocali si chiama MOT. Ecco è questa quindi la aggiungerete e poi la ritroverete in alto contrassegnata da questa M. Se volete provare altre estensioni per correggere i compiti potete cercare questa. Doc ABI. Eccola. Funziona come Kami quindi permette appunto di correggere i compiti ma non si inserisce all'interno di clastro come invece fa Kami. Oppure Read&Write. E questa quindi l'aggiungerete.